Abbiamo molte sì davanti, molti fronti, ma quello specifico di questo tempo è davvero il mutamento climatico e la difesa dell'ambiente. E collegato a questo, all'interno di questo, viene uno specifico del nostro Paese, quello della cura del territorio. Cura del territorio che riguarda e realizza davvero un interesse prioritario per l'Italia. Molte delle emergenze e delle calamità naturali sono dovute alla scarsa cura del territorio, all'impoverimento della cura del territorio. E quindi sotto ogni profilo, anche quello economico, per il nostro Paese, è un tema centrale, un tema prioritario.